Agnello Ferro, rappresentanza degli obbligazionisti della De Iulemar, è un momento di difficoltà e di disagio per voi obbligazionisti rispetto alla questione della legge Pinto. Perché cosa sta succedendo? Siamo in difficoltà perché per la legge Pinto, per il ricorso a questa legge, gli avvocati chiedono un'insinuazione a passivo, questa lettera. Questa lettera è stata fatta a suo tempo dagli avvocati e quindi presentata poi al tribunale di rinunzione per la richiesta. Adesso per fare questo ricorso c'è bisogno di questa lettera di insinuazione a passivo. Gli avvocati dicono chi non ce l'ha, chi non la tiene, deve andare alla curatella. Parecchie persone stanno andando alla curatella per far sapere questa benedetta lettera. La curatella invece fa muro contro muro. Dice che non è competenza sua, dobbiamo rivolgersi ai nostri avvocati. Quando allora noi i nostri avvocati, noi ci siamo rivolti, abbiamo pagato, abbiamo ottenuto quella insinuazione a passivo, basta. Adesso questo avvocato se non ce l'ha data, l'ha consegnata alla curatella e la curatella ce le deve dare. Perché parecchie persone anziane stanno andando avanti e indietro con questo caldo e con questo sole. Noi abbiamo perso già molte persone. Molte persone sono morte, noi abbiamo perso 1.500 miliardi di lire, 800 milioni di euro. Quindi noi stiamo cercando di far recuperare qualche cosa di soldi, finalmente qualche cosa di soldi dopo anni, adesso, perché già sono oltre due anni che non prendiamo più niente. Ed è giusto che noi dobbiamo aiutare tutti quanti, perché alla curatella basta un solo clic e mettere nel computer, perché abbiamo fatto, mandato addirittura gli anziani che non ci hanno mai le cose dalle cartellerie autorizzate, specializzate per mandare questo benedetto mail alla curatella. La curatella non gli risponde, non ci dice niente, non si fa ferire niente. Cioè praticamente noi siamo carta straccia, siamo buttati lì e questo non lo vogliamo. Se non ci sono queste domande di insinuazione, siamo disposti anche a fare una denuncia ai carabinieri. Abbiamo perso l'insinuazione e noi la vogliamo. Ci spette perché altrimenti ci impedite di fare un ricorso alla legge Pinto. Quindi facendo così ci impedite di fare un ricorso a una legge dello Stato italiano. Perché questa legge è così importante? Questa legge è importante per recuperare nel giro di qualche anno, se Dio lo vuole, di recuperare qualche cosa di soldini. In effetti dice che dopo sette anni delle irraggionevoli situazioni che dovevano essere terminate i processi, non sono terminate. Adesso siamo al dodicesimo anno e pertanto noi possiamo recuperare qualche paio di migliaia di euro. E quindi sono parecchie persone, non si possono curare, sono allargimanti, sono anziani. Perché la maggior parte degli obbligazioni statisticamente sono anziani e noi dobbiamo aiutare queste persone qua. Non possiamo starcene con le mani in mano. Si parlava di un riparto, speriamo che per Natale arrivi. Siamo in attesa di sapere qualche cosa di lui. Quindi oggi qual è il suo appello? L'appello che gli avvocati, chiudete un occhio, fate quello che potete fare alla curatella, basta un clic, ci sono i soldi in cassa. Chiamiamo due persone, contratto a tempo determinato, due diplomati nel giro di un paese, siamo 600-700 persone, 800 persone per dare queste benedette lettere. Diamo e togliamo questo fastidio davanti e indietro, perché le persone vanno a pompea, avanti e indietro, con la visione, con il caldo che fa. Questi muoiono, questi muoiono, ne abbiamo lasciati già morti per la strada. Basta morire adesso.